A nome della città di Firenze unisco dunque la mia voce e la mia gratitudine alle autorità dello Stato, partendo dal ricordare qui insieme a voi quei due ragazzi, Mor e Modu, che non sono più tra noi e che hanno pagato con la vittima la follia razzista di quel giorno di dicembre. Credo che la vostra cittadinanza, la cittadinanza italiana sia anche il nome loro, sia anche il modo più serio per ricordarli come appartenenti ancora oggi alla comunità di Firenze e dell'Italia e sia il modo più bello per ricordarli con il loro nome. Tante volte ci siamo detti che abbiamo ricordato i due ragazzi senegalesi, erano Mor e Modu e per noi resteranno Mor e Modu e voglio dire in particolar modo a Mustafa è che Firenze è solida perché è solidale e noi abbiamo voglia di accompagnare la tua scommessa che è anche la nostra scommessa e la nostra sfida.